Benvenuti tifosi napoletani. Oggi sveleremo le conferme sul giocatore del Sassuolo che potrebbe essere il nuovo rinforzo del Napoli nella prossima stagione. Ma prima, cogli l'occasione per iscriverti al nostro canale e rimanere aggiornato sulle novità. Il presidente Aurelio De Laurenti spunta ad aumentare ulteriormente il valore del Napoli ove possibile. Con l'arrivo dell'allenatore Rudy Garcia, il club ha avviato un progetto ambizioso che mira a ottenere più vittorie, come annunciato in una recente conferenza stampa. Tra gli obiettivi del Napoli c'è un centrocampista del Sassuolo, che ha suscitato l'interesse per ottenere la sua firma, sfruttando la voglia del giocatore di restare in Serie A italiana. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli ha l'opportunità di chiudere un affare con il Sassuolo investendo 40 milioni di euro nell'acquisizione del giocatore. Il Napoli è interessato ma aspetta di vedere se ci sono grandi cessioni prima di investire. Dal mio punto di vista, il calciomercato estivo sarà orientato verso frattesi, con il club che cerca di massimizzare i profitti visto l'interesse di altri club italiani. Di più e voi tifosi, vorreste vedere il giocatore difendere o meno la maglia napoletana per la prossima stagione? Commenta qui sotto e cogli l'occasione per mettere mi piace e condividere queste informazioni. Torneremo presto con altri aggiornamenti.